Quando avete capito che non si trattava, insomma, di quella persona, ma di due comici? Il Presidente del Consiglio l'ha capito subito. Subito? Quindi non nei giorni, pochi giorni prima. Come è stato possibile? Il Secretario ce lo spiega. Buonasera, ci spiega come è stata possibile una breccia del genere nella sicurezza, due comici, se sono riusciti a parlare con il Presidente del Consiglio. Mi termino. E' abbastanza grave. Attenzione che c'è la Pozzagna. Sottosegretario, il punto è se ci dice almeno se avete capito, quando avete capito che non si trattava, insomma, di quella persona, ma di due comici? Il Presidente del Consiglio l'ha capito subito. Subito? Quindi non nei giorni, pochi giorni prima. Come è stato possibile? Il Secretario ce lo spiega.